Lasciate tanti mi piace per la reaction degli ottavi di finale e diteci qua sotto nei commenti l'easter egg che vedete qui NON E' VERO Ah ok, allora lo faccio anch'io Partiti Dai ragazzi Allora l'attimo non capito No perché non l'avevo capito Adesso Ma non c'è la miseria Mamma mia buonissima Una buona Bastoni Mamma mia Bastoni Bastoni Vabbè Fuori fuori Mancini tacco Ma ritagliela Bravi 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 No Mannaccia Non mi potevamo tirare Perotti Hai incrociato Hai incrociato È buona raga Porca mignosa Ma la segnando il galle Keep calm Keep calm Mancini Ho rischiato Falla a chiesa Falla a chiesa Falla a chiesa Falla a chiesa Bello Bravo Vai 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 Locatelli Vai Marco All'arga Allora Mettila Mettila bene Mettila bene Sinistro BELLO BELLO OH NOOOOO 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 Vabbè ragazzo L'ha presa sulla liga Dove l'ha presa Mi sa disisa Mi sa disisa Ma no io stava solo Ma non l'ha diviato E' corda Era solo chiesa raga E' corda POM Era fuori Era fuori Era fuori Era fuori No andava fuori Ma andava fuori Qua Ora la chiave Ok Si K irritating La Ma L'inferimento Mi sa C opening Comenzione Questo è calcio Questo Questo è calcio Questo è calcio Questo è calcio Comenzione Gömmeno di tutto Questo è Italia Questo è il football! Questo gol mi ha ricordato un altro gol Girardino Girardino, poi? Non lo so Vabbè nei commenti diteci a quale collasso mi ha questo Let's go! Grande Vestina, grande! Che gol ha fatto raga Guardala, guardala! Che palla ha messo Berazzi Guardala, che palla ha messo Guardala, che palla ha messo Sta giocando Mamma mia, guarda lì Vabbè ragazzi Mamma mia che palla che ha messo Grande campione per Ratti, si vede qua Grande Marcolino Ottima Italia In Calest alla Turchia, più o meno Stanno giocando No, sono più bravi loro però Stanno rischiando un po' di più i Galles Comunque secondo me siamo partiti un po' come la prima partita All'inizio dovevamo capire A 10 minuti vanno sempre studiati Esatto Però abbiamo sempre il palino del gioco E' vero? Vediamo il secondo te Vai Ammigia dai ragazzi Dai 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 Entrata c'è il mio posto di Monucci eh Si, non mi si è fatto male No 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 Turn over Dai 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 Perti 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 Come gioca l'Italia caro E' come gioca l'Italia Caccia Perti L'insuazione Tutto Porca miseria Guarda la Passa a destra e portiere l'aveva fatto Peccato Bravo Perna Proprio la infima La bambina Sceva che è caro sulla schiena Spopiare a entrare Sta merda di palla Bravo Perna Ancora Bravo Come l'ha alzata Bravo Giorgio La calma La calma è la virtù dei forti Vai Verratti Bravo Allora ragazzi Come siamo? E' chiesa Te lo vai Mamma mia Berkardeschi raga Mamma mia Ammonisci porca Rosso Fuori Sotto la doccia 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 Gallese sotto la doccia Sotto la doccia Vediamo una vetrino Vediamo un po' La fammo Guarda se hai fatto male a Bernardeschi ti faccio ottimando le maledizioni No io penso sia rosso perché ha toccato Bernardeschi Cioè sull'altro era già Vediamo Gabbatesa che ha fatto? Vediamo Vedala 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 Mettila dietro 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 Nooo 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 Ma perché? Per chi è vero? Carlo Bravo Ha perso il tempo Ha perso il tempo Ma porca miseria Ha perso il tempo chiesa Ha perso il tempo Qua ha perso il tempo Qua ha perso il tempo Qua ha perso il tempo Mi fate queste cose qua Hai capito? No 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 Mi fate male Luca Questa caglia Eccadre che è sassata E' un bellissimo gruppo Camer Il gruppo nazionale Scherzi Ma ci mancherò Nooo Rotten Grazie a Giorgio Grazie a Giorgio E' macchina la question E' Bets è Giorgio Luizia Armittio Benyardeschi la riuscata di condizionare la riuscata il numero del 10 è il chef Federico e la testi e la testi 1, 2, 3 grazie alla prossima no, Bale lo sono sbagliato Bale no, no, no non si possono fare cosa ho sbagliato Bale liberissimo è uno, ero sul sinistro c'era nel primo rigore chi ti ricorda? Algo Morata Algo che Morata questa è a Scusi Gamer ooooooo eee vivi 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 a Londra a Londra adesso ragazzi back home solo per 7 gol fatti 0 subiti esatto in Italia ragazzi viva 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 questo è stato importante come ha detto Mirko 0 gol subiti ragazzi speriamo di adesso non subirne tanti nelle fasi finali fase a girone perfetta così non potevamo fare ora inizia quella un po' più delicata esatto però ci siamo oggi con questa partita secondo me però abbiamo aggiunto anche dei dubbi perché Verratti ha fatto una partita veramente veramente importante in un ruolo che sembrava quello di Giorginio per le prime due partite viste chi lo sa il mancio cosa deciderà di fare e ora il ct è pagato per quello vieni in campo lui Verratti commentate qui sotto anche con il vostro migliori in campo esatto è l'ister egg l'ister egg quale è l'ister egg vai più quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al diiz e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao